E' arrivato un pacco pieno di manga. Beh, mi sono arrivati questi sei volumi di una serie chiamata Re Monster. Questa è la copertina del primo. Un volume unico destinato a un pubblico adulto, chiamato L'epica ascesa del domatore fuorilegge della sua donna gatto, avventuriera di classe S. Un titolo abbastanza corto. E sembrerebbe essere un fantasy piuttosto spinto. E per concludere abbiamo i dodici volumi del controverso Redo Willer. La copertina dice già molto. Non so chi di voi ricorda qualche anno fa quando uscì l'anime, ma adesso tocca vedere se il manga è meglio. E adesso inizio a leggere tutto ciò che posso. Ci vorrà qualche giorno, ma per voi saranno pochi secondi. Bene, ci siamo. Mi sono preso una settimana di tempo per leggere tutta questa roba. E parliamo quindi di questi manga fantasy che hanno due cose in comune. Le waifu e il set. Sono infatti manga pieni di waifu che si ritrovano in situazioni molto spinte e piccanti. Due di questi lo fanno con la giusta dose di leggerezza, più o meno. Mentre uno dei tre, e dovreste già riconoscerlo, lo fa in un modo diverso. Un po' cattivo. Tanto cattivo. E partiamo proprio da lui, Redo Willer. Abuso, stupro, set, droga. Con una mole infinita di waifu malvagie che pian piano in un modo o nell'altro si ritroveranno tra le braccia del folle protagonista. Il cui scopo è vendicarsi di tutte loro. Questo è in breve Redo Willer. Un manga eticamente sbagliato, non per forza in senso negativo. Con temi molto forti e pesanti. L'ho conosciuto come tutti voi quando uscì l'anime qualche anno fa, che divenne virale per la sua premessa folle. Ma di cosa parla? La storia si svolge in un mondo scuro e senza pace, con varie specie che si odiano e sono in costante conflitto tra loro. Ma la storia si focalizzerà su Keiaru, questo personaggio. Un mago guaritore che per via della credenza che i guaritori non sono in grado di combattere, viene sfruttato e abusato dagli altri quotidianamente. Una volta compreso di cosa può essere capace, Keiaru decide di usare la magia a suo esclusivo vantaggio, tornando indietro nel tempo e ricominciando la sua avventura dal principio. La tentazione di vendicarsi di tutti i torti subiti è forte, e il giovane guaritore non riesce a resistere dal portare finalmente il mondo a girare nel verso che vuole lui. Come vi ho detto, grazie all'anime questa storia è diventata molto conosciuta, anche se divenne al tempo stesso un scandalo. Si tratta quindi di un'opera di puro e non sano intrattenimento, senza morali, o meglio, in realtà qualcosa c'è. Redo Willer mi ha insegnato a godermi le piccole cose della vita, perché non sai mai quando qualcuno verrà a distruggertela. Però, di certo, non imitando il protagonista. No, questa parte tagliamola. Comunque i disegni del manga mi piacciono molto più dell'anime, e la storia ha un bel ritmo serrato dove in ogni volume il protagonista si ritroverà a vendicarsi di qualcuno. Solitamente si parla di belle ragazze. Con le quali il protagonista farà delle brutte cose. Sapete quali. È quindi molto scorrevole e non ha delle reali pretese. È una storia che coinvolge moltissimo all'inizio, perché, diciamoci la verità, la premessa di partenza attira e coinvolge molto. Ma poi a lungo andare si sviluppa in modo molto lineare. Viene comunque la curiosità di sapere come andrà avanti la storia e come si compierà questa sua vendetta. Sappiamo quindi bene cosa aspettarci da ogni volume, però qualche sorpresa ogni tanto ce la regala. Redo Willer quindi non è un manga per tutti. Non che gli altri di cui parleremo siano tanto meno spinti, però in questo caso si raggiunge un livello di cattiveria veramente esagerato. E ci sono tante scene che potrebbero disturbare le menti più pure. Passiamo quindi al prossimo. Per quanto riguarda il domatore e la gatta, che chiameremo così per semplificare, siamo di fronte ad una storia un po' più semplice e più classica. Anche se c'è da dire che per ora è uscito solo il primo volume. Si tratta di un manga che all'apparenza ricorda un semplice fantasy con un giovane timido e una waifu gatta molto accattivante. Ma dovete sapere che nasconde delle vere e proprie scene di set molto otte e spinte. Fin da subito. È infatti un manga super esplicito e volgare, non quanto Redo Willer, però è tanto. Così tanto che per metà del primo volume vediamo i due protagonisti che fanno le peggio cose mentre ci raccontano dettagli importanti sulla trama generale dell'opera. Vi leggo la trama. Il domatore Lint viene costantemente risprezzato per la sua professione di basso livello, ma riesce comunque a guadagnarsi da vivere con il suo compagno slime. Dopo essere arrivato nella capitale reale, nella speranza di riuscire a farsi un nome, viene approcciato da una procacia avventuriera di grado S. Ti andrebbe di domarmi? Lint non sa cosa rispondere a questa assurda richiesta, ma è da questo momento in poi che comincerà la sua ascesa, insieme ad un bel party. Violenti combattimenti, donne procaci e un pizzico di erotismo. Ma giusto un pizzico. Che altro volete? Insomma, prendetelo come un Red O'Viller, ma con un protagonista più genuino e onesto. Con scene molto hot, ma di sicuro meno aggressive. Almeno per ora. Le Monster invece è un manga molto interessante e divertente. Una lettura che prima di dormire rilassa il giusto. Tra l'altro ad aprile arriverà anche una versione animata, ma dai trailer non mi convince affatto a differenza del fumetto. Avete presente Yentai con i Goblin? Ecco, sembra quello. Dovreste sapere bene che soprattutto nei manga, di solito i Goblin sono considerati dei nemici piuttosto inutili, deboli e stupidi. Ma la vera sorpresa è che questo manga prova a ribaltare questo concetto. Se solitamente negli Sekai i protagonisti si reincarnano in un altro mondo diventando l'oggetto più impensabile possibile come un distributore automatico o una creatura veramente bizzarra come uno slime, questa volta hanno deciso di sfruttare una razza molto poco allettante. Eppure questo manga funziona un sacco. Il protagonista dopo un tragico evento si reincarna in un Goblin, una delle classi inferiori del mondo fantastico dove è rinato. Per sua fortuna in questa nuova terra conserva tutti i ricordi della vita precedente e il potere extrasensoriale, Absorption, che gli permette di mangiare qualsiasi cosa senza subire danni, anzi acquisendo forza e nuove abilità. Ad oggi viene considerato uno dei precursori dei manga e delle light novel Isekai, un po' come successe anche per Mushaku Tensei. La cosa che ho notato è che i primi Isekai sono quasi sempre i migliori, quelli strutturati meglio e più pensati rispetto a tutti quelli che stanno uscendo nel corso degli anni. Mi piace molto il fatto che viene raccontata tutta la storia in prima persona dal protagonista e viene divisa in giornate, senza mai correre. Pian piano ovviamente il protagonista come qualsiasi Isekai che si rispetti si deve creare un bell'arem e non solo, abbiamo anche qui delle scene piuttosto spinte e cruenti, ma sicuramente più contestualizzate rispetto ai precedenti. Diciamo che qui si dà un po' meno spazio al fanservice e più alla trama. Infatti ciò che mi ha colpito di più di questo remoster è sicuramente il world building, ci sono tanti dettagli della storia che ci vengono spiegati man mano e in maniera progressiva vedremo il protagonista crescere in questo mondo. Un bel fantasy ben strutturato. E direi che abbiamo finito. Ringrazio Magic Press che mi ha inviato tutti questi bei manga fantasy, trovate il link qua sotto in descrizione se volete acquistare qualche manga di questa casa editrice, altrimenti trovate tutto anche su Mangaio. Prima di lasciarvi vi cito un altro consiglio fantasy, sempre di Magic Press, che è The Eminence in Shadow. Si tratta di un altro Isekai che conosco molto bene e di cui abbiamo già parlato ampiamente nel canale. Detto questo vi ringrazio per aver visto questo video, lasciate un bel mi piace nel tal caso, seguiti i vari social e ci vediamo alla prossima. Ciao!